Musica E bella a tutti ragazzi e ragazze Io sono il vostro caro Mastro King E benvenuti in questo nuovissimo video Allora Qui siamo in questo nuovissimo video vlog E quest'oggi volevo parlarvi Di due o tre cose particolari Prima cosa, siccome vedete Mi sono tagliato le capelle, finalmente L'ho tanto tempo E si, comunque mi sono deciso Un piccolo tagliato Devo dire Che così va molto molto meglio E quindi Vabbè, ho tagliato e punto e basta Comunque i prossimi video Con un nuovo taglio dei capelli Allora Quello di cui volevo parlarvi di questo video vlog E che non so se sapete Quello che è successo tra Yook 4316 Mister Hyde Flame Comunque tutta questa gente qui Che praticamente In un live Hanno Diciamo Yook Ha dedicato Un altro personaggio Ora non mi ricordo il nome del canale Però Comunque hanno Visticciato Diciamo Però comunque poi si sono Riappacificati E quindi Tutto a posto Se lo voi direte Beh Il fatto è che Quanto pare Questo litigio Era stato programmato Ovvero Da personaggi come Flame Flame Come personaggi come Mister Hyde Perché comunque Da quanto Io ho seguito Quelle live E ho seguito anche Altre video E sono menù di dopo Sulle rispettive canali E quello Che ho notato E che sembra Che sia fatto apposta Nel senso Che Sia stato organizzato Da personaggi come Flame Come Flame Come Mister Hyde E si è stato organizzato Questo live Apposta Per far Litigare Yook 4316 E quest'altro ragazzo Purtroppo Mi chiedo scusa Che lo venia Perché non mi ricordo Assolutamente Come siamo In questo canale E quindi Volevo dirvi un po' La mia Perché comunque Successivamente E' nato Un sorta Un problema Perché lì per lì Finché si sarebbe Fermato lì Il litigio Poco male Si cavo E finire La sua storia E il fatto Sono sorti Due problematiche Uno è che appunto Questi personaggi Un cui Mister Hyde E Flame Ci hanno fatto Le rite Successivamente Su questa Su questo Su questo Litigio E quindi Cosa A parer mio Assolutamente Non va bene Perché comunque Tu stai sfruttando Qualcun altro Per fare visual Su tuo canale Che a parer mio Non è Cosa corretta E Invece Un'altra Problematica Che è nata E' il fatto Che Sotto ai video Yuka Sono comparsi I commenti Come ad esempio Yuki sei una merda Yuki sei qua Yuki sei là Comunque Una specie Di movimento Di massa Nei confronti Contro Yuka E qui Io sinceramente Non è Io lo sto facendo Per difendere Yuka L'avrei fatto Comunque Se ci fosse stato Chiun Come l'ho fatto Per Ciccio Gamer Come lo farei Per qualunque Altro Youtuber Esso sia Che non mi pare Corretta Questa cosa E comunque Sfruttano I iscritti Contro Qualcun altro Perché comunque Se noi Youtuber Qui mi ci metto In mezzo Anche io Abbiamo dei litigi Con qualcun altro E' giusto Che Questi litigi Un quelli Risolviamo Tra di noi Certo Volendo Possiamo pure Parlarvene Però comunque Voi iscritti Comunque Non dovete Non dico Potete dire La vostra Però comunque Non dovete Schierarvi Così Apertamente Nei confronti Di qualcuno O nei confronti Di qualcun altro E comunque Sotto i commenti Comunque dovete Scrivere Sotto i commenti Di quel video Come La pensavate Non Come Effettivamente Secondo voi Comunque Insultando Chi secondo voi Aveva sbagliato E quindi Questo era un po' Di assunto Di quello che è successo E di come La penso io Allora Detto questo Voglio parlarvi Un po' Le ultime Le ultime Cose Che hanno aggiunto Nell'ultima versione Di minecraft Ovvero La 1.12 Ovvero In questa versione Di minecraft Hanno aggiunto Praticamente Nuovi blocchi Nuovi sim Blocchi E hanno modificato Alcuni Ad esempio Hanno modificato La clay Che ora Che ora Non si chiamerà Più clay Bensì Si chiamerà Terra cotta Io ora Sicuramente Farò fatica Prima A chiamarla Terra cotta Perché Sempre S'abituato A chiamarla Clay Poi Hanno aggiunto I colori Comunque L'hanno Vivacizzati Sia per la clay Sia per La lana Comunque Le dye L'hanno Migliorate Poi Un'altra cosa Hanno aggiunto Molto molto carina Cosa che Vorrei fare Nel prossimo episodio Di minecraft Data Ovvero Quella di Cercare Dei pappagalli Perché appunto Hanno aggiunto Veramente i pappagalli Cosa che Io Non ho trovato Come non ho trovato I orsi volari Come non ho trovato I lama E come non ho Neanche un cane E quindi Vorrei Fare Dei Pensavo di fare Degli episodi Esplorativi In cui Cercherò I vari animali Diversi Per Diciamo Come animali Diciamo La compagnia E farci le farm Perché ad esempio Gli orsi volari Hanno trovato Comunque Ci droppano Le pesce Quando muoiono E quindi potrei Farci una farm Gli orsi volari E Allo stesso tempo Comunque Fare Comunque Il cane E simbolo Di minecraft Anche E quindi Carino Tenere Un cane Da compagnia Poi Allo stesso tempo I pappagalli Stesso discorso Comunque Sono animali Da compagnia E Poi invece Per quanto riguarda Lama Sono molto utili Perché Dicevo Per quanto riguarda Lama Sono molto Sono molto utili Perché Lama Possono Trasportare Degli oggetti Degli oggetti Quando vado Sotto in miniera Non a miniera Dunque Le caverne Ma miniera Miniera Posso portarmi Un lama O se almeno Con un paio Di ceste Addosso E posso Fare avanti Indietro Per Appunto Per portare Il materiale E tutto quanto Così posso Stare Fare Delle minate Anche un po' Più intensive Un'altra Cosa Volevo chiedervi Più altro Consiglio E qui sotto Nei commenti Comunque Consigliatemi Cosa costruire Che veramente Veramente Non ho più idee Ho fatto Uno degli ultimi Bisogli Mi pare Forse Proprio L'ultimo In cui Costruirò La pokeball Quindi Qualche Due tre Episodio Di esplorazione Ce li ho Quindi Cosa Fare Per due tre Episodio Lo so fare So Dove cosa fare Invece Per altri Episodio Ho Praticamente Costruito Tutto Molta roba Quindi C'ho la miniera C'ho la miniera Abbandonata Piano piano Sto ricostruendo Poi ho il Castello Ho la casa Ho la farm Di grano La farm Di patate Mi manca Quella di carote Quindi potrei Fare un episodio In cui costruisco Una farm Di carote Poi potrei fare Una farm Ad esempio Di ferro Però Per quella Ci vuole un po' Più di lavoro E Quindi Potrei fare Una specie Di Percorso Noi Sto tenendo Un'idea In questo momento Poi Per esempio Potrei fare Una specie Di percorso In cui Esploro In cui Faccio Un percorso Dal Mio Villaggio Che sto Costruendo Fino Al villaggio Di villagers In cui Una specie Di percorso Carino Diciamo Fatto bene In cui appunto Porterò Farò Questo Questo percorso In cui Arriverò Posso Utilizzare Per arrivare Facilmente Il villaggio E quindi Questo Era tutto Quello Che volevo Descrivervi In questo Video Allora Mi pare Di aver Detto Tutto Ah no Mi sono diventato Una cosa Quello Mi sono diventato Comunque Un consiglio Vi chiedo Magari Scrivetemi Qualche Consiglio Su Qualche Canzone Magari Posso mettere Sotto fondo Nei Videovlog Così magari Posso Senza Metto Sempre Stesse Canzone Ovviamente Per il momento Senza Copyright Però Cercherò In qualche Modo Di Piano Piano Facendo Mentre Crescerò Di Fare Un Di Comunque Prendere Accordi Anche Con la Sia Così Almeno Posso Mettere Qualche Canzone Di Più All'interno Del Canale E Quindi Detto Questo Questa Volta Ho Detto Veramente Tutto Spero Che Questo Video Vi Possa Essere Piaciuto Se Così Mi Raccomando Lasciate Un Bel Like Iscrivetevi Al Canale E Seguitevi Su Twitter Instagram Facebook Ovunque Voi Vogliate Ciao A Tutte E Voi